...e ragazzi più meritevoli con le borse di studio Fodale. Le borse di studio Fodale sono state donate, c'è stata una donazione di 150.000 euro da parte della famiglia Fodale, della professoressa Fodale, già docente presso la nostra scuola e il ricordo del padre, già dirigente scolastico. Questa è stata un'occasione più unica che rara che un privato abbia lasciato alla scuola si dà le donazioni e con gli interessi che maturano ogni anno vengono erogate delle borse di studio appunto per i ragazzi più meritevoli. Bene, adesso abbiamo il piacere di chiamare il nostro sindaco, Salvatore Adduce, per la premiazione. Buonasera signor sindaco, grazie della partecipazione. Allora, cominciamo. Buonasera a tutti e complimenti per questo splendido risultato che i ragazzi hanno raggiunto grazie all'impegno della scuola la parola chiave della nostra vita deve essere la scuola l'impegno della dirigente, l'impegno di tutti gli insegnanti, di tutto il personale e devo dire anche le famiglie che seguono con grande attenzione questo importante e splendido lavoro. Naturalmente il merito è tutto vostro e vi impegnate e sono qui per dirvi a nome della città bravi Un applauso al sindaco e ai nostri ragazzi Allora signor sindaco, iniziamo la prima azione? Allora, Lorusso Nicola Lorusso Nicola, borsa di studio fotale Adesso chiamiamo la dottoressa Filomena Di Bari dirigente del provveditorato agli studi di Matera Dottoressa, buonasera Allora chiamiamo Lazzari Pietro Ivan Attestato di merito a Lazzari Pietro Ivan Dottoressa, un'altra premiazione Lazzari Rosalia Attestato di merito a Lazzari Rosalia Adesso abbiamo il piacere di avere con noi il professore Antonio Labriola Sempre con noi tutti gli anni Allora il professore premierà Paradiso Valentina Paradiso Valentina Attestato di merito E' arrivato il momento di avere con noi il nostro dirigente scolastico professoressa Patrizia Di Franco A me toccano le parole Adesso ti toccano le parole Intanto grazie Ringrazio di nuovo Infatti devo fare qualche altro ringraziamento Sicuramente l'amministrazione comunale che ci ha permesso di poter fare questo piccolo concerto in questo bellissimo scenario Di nuovo il comitato per i festeggiamenti della Madonna della Bruna Però permettetemi di fare un grande ringraziamento ai docenti di strumento musicale A Lucia Gianpietro A professor Raffaele Sposto A professor Felice Tamborrino La professoressa Ornella Ruzzi La professoressa Argenzia Agata Giannocchari Agata Giannocchari E un ringraziamento altrettanto speciale ad Ornella Altamura che come sempre si presta a fare A due soluzioni per ogni problema E ancora uno Alla professoressa Tina Santochirico che porta veramente avanti il plesso della nostra scuola che continuiamo a chiamare Nicola Feste che fa parte del nostro istituto comprensivo Un ringraziamento naturalmente va a tutti i genitori che sono qui con noi e che ci permettono di poter lavorare anche con questi meravigliosi bambini che salutiamo praticamente per l'ultima volta perché sono i ragazzi che hanno sostenuto in questi giorni gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione quindi li licenziamo tutti e li mandiamo tutti alla scuola superiore grazie ragazzi passeranno il testimone a chi dopo di loro continuerà con questa bellissima avventura che come avete sentito è sempre premiata dove andiamo abbiamo sempre qualche premio che ci accompagna anche più di uno quest'anno decisamente che dire il più ringraziamo anche Real Music per averci offerto il supporto grazie da tutti noi grazie a tutti portato il pianoforte tutto l'impianto audio senza di noi non sarebbe stato possibile ringrazio ancora poi vedrete insomma c'è il nuovo assessore all'istruzione comunale che chiameremo tra poco anche lei a premiare uno dei nostri dei nostri bambini che si sono distinti per merito hanno studiato e per questo hanno non solo l'attestato di merito ma anche una bella borsa di studio e di questi tempi insomma poco poco non è ringrazio anche il responsabile della nostra orchestra Tommaso del Giudice e poi ho terminato con il ringraziamento ancora uno in particolare per la dottoressa di Bari perché il nostro ex provveditorato agli studi sebbene piccolo continua a darci con un supporto per l'organizzazione della scuola dobbiamo premiare qualcuno? sì allora dobbiamo premiare Cambio Vito 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 attestato di merito per Cambio Vito allora noi continuiamo bene io vi auguro intanto buona continuazione dopo le borse di studio noi continuiamo abbiamo ancora qualche brano grazie ringraziamo la nostra preside professoressa Patrizia Di Framo per la premiazione appunto il nuovo assessore all'istruzione professoressa Flores Montemurro colella Valeria colella Valeria colella Valeria attestato di merito adesso il piacere di avere ancora una volta con noi il nostro ex dirigente scolastico professor Pancrazio Toscano microfono al preside come sempre sono felice di questo invito e a mia volta invito la scuola media festa a continuare nell'impegno a resistere perché purtroppo quello che io personalmente non condivido assolutamente il modo in cui si è si sono disintegrate le scuole di Matera con questa finzione di maggiore efficienza scusatemi la piccola parola l'orchestra nasce molti anni fa ci vogliono molti anni per costruire il senso di una scuola e per me pur conoscendo pur avendo frequentato questa città per oltre mezzo secolo dagli inizi degli anni 50 non è bello vedere che la scuola con la maggiore memoria storica della comunità sia stata così disintegrate scusatemi per me è doveroso come appassionato di scuola e come uomo di cultura un paese senza memoria non ha futuro direi non ha diritto al futuro questo è questo il futuro è questo insisto il futuro è il pensiero creativo il pensiero divergente diffidate da quegli altri va bene basta grazie preside per queste sentite parole e adesso passiamo alla premiazione di Cafaro Angela Cafaro Angela attestato di merito adesso il professor Giuseppe Carlucci dove è Pinuccio sempre a fianco dei nostri ragazzi per tutte le attività sportive nonno dire qualcosa non c'è da dire e un bravo ragazzi un bravo ragazzo un bravo ragazzo bravo ragazzi sono lo stesso allora premiamo Luca Innella Luca Innella attestato di merito presidente del consiglio d'istituto signora Brunella Perrone a cui va un nostro affettuoso ringraziamento per la partecipazione ai nostri progetti e alle nostre attività chiamiamo Martina Maria Stefano attestato di merito a Stefano Martina Maria grazie sarà premiata con borsa di studio fodale Francesca Pozzuoli dalla nostra vicepreside professoressa Tina Santochiri professoressa vuoi dire qualcosa? grazie a tutti per la serata adesso abbiamo due borse di studio per i bambini della scuola primaria chiamiamo l'insegnante responsabile del plesso Cappelluti Cinzia Pauricelli buonasera complimenti per la serata bellissima come al solito grazie di cuore chiamiamo Sara Montemurro Sara Montemurro attestato di merito Luca Salluce Luca Salluce attestato di merito grazie Cinzia grazie a tutti